Il pallone centrale è la guerra per la finita Questa volta in dentro Ma Marghezzi si buca a Vecoli Tiene palla con gralla battuta Insidiosissima E c'è il gol da parte di Lucarelli Che ancora una volta Punisce una difesa del Palermo totalmente ferma Crespo, crespo, crespo La palla verso Angelo Era di rigore Il tiro e la palla Che si ora è il palo Sinistra verso destra In questa ripresa Con la prima palla in avanti Verso Ilicic Che entra in regore Va fino in fondo Pallone in mezzo E si accartoccia Mirante Sui piedi di Rigoni Per la prima azione Dopo 10 secondi Qua ad andare Trova un buon barco Ancora Nocerino Allunga la palcata La palla per il di Nocerino La palla di Mirante Ancora Nocerino E gol Dicio Mirina 1-1 Grandissima azione di Nocerino Che come un giocatore di rugby Ha sfondato centralmente Ha portato avanti palla E adesso sfoga tutta la sua rabbia Verso il pubblico Lo vuole incitare È stato bravissimo Nocerino a trovare Un corridoio centrale Sorprendere all'indietro Pallone per Bacino Vincenzo ancora Il suo lancio lungo A cercare Viniglia di testa Molto bene per Micoli Limite dell'area Il destro Goal 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 Fabrizio Micoli 2-1 Il pistoli Dal capitano Il pistoli Nel destro di Micoli Dal limite dell'area Micoli Ancora Micoli La palla verso Ilicic Posizione regolare Ilicic Prova davanti a Mirante Tiro Traversa Traversa Casami Grandissima Risposta Di Mirante Viniglia Viniglia verso Ilicic Vertice dell'area di gore Il cross con il sinistro morbido A cercare il colpo E testa La parte di Casami Goal Goal Game over al Barbera Amici di RGS Il Palermo Batte il Parma 3-1 Torna alla vittoria Chiude il 2010 Qui al Barbera Con 4 vittorie consecutive Sale a 26 punti In classifica Rivede la zona Champions Rivede la luce Dopo che Il buio petto Aveva